adesso dobbiamo aspettare il nostro minuto per partire eccoci qua siamo arrivati allo start della prova abbiamo il nostro commissario di percorso che ci darà il via ufficiale alla nostra prova di partenza e faremo i nostri due chilometri in compagnia un saluto a Monferrato TV eccoci qua adesso stiamo aspettando che liberino la prova sta ritornando il concorrente prima e poi tocca a noi sei pronto navigatore? pronto con pronto sei tu che mi devi dare lo start vado 3 2 1 via via si parte e via adesso qua abbiamo un allungo dove cerchiamo di mettere quasi tutte le marce a nostra disposizione cominciamo a testare un po' i freni per i tornati che ci aspetta ok adesso abbiamo ancora l'ultima chicane facciamo un po' veloce e via siamo quasi arrivati al fondo questa è una curva che ti porta tanto fuori qua siamo arrivati al tondo e via e si ritorna e facciamo tutto al contrario magari diamo un po' più forte dai via cerchiamo di mettere un po' di sfruttare un po' questo asset dai tutto pieno abbiamo quasi finito dai ed è andata eccoci qua arrivati abbiamo fatto coda potevamo andare più forte ciao a tutti ok eccoci ritornati in piazza e via abbiamo fatto un po' di coda dai adesso carichiamo chi manca wow potevamo